Questa mattina presso la sala giunta di Palazzo Sant'Agostino, nel corso di una conferenza stampa, i dirigenti del settore forestazione dell'ente provinciale hanno illustrato le nuove procedure per la gestione del taglio boschi nel Salernitano. Durante la conferenza stampa inoltre sono state rese note le nuove modalità di presentazione online per le domande di rilascio autorizzazioni al taglio di boschi e al mutamento della destinazione d'uso in aree gravate da vincolo idrogeologico. Le domande da presentare alla provincia di Salerno dovranno essere inoltrato utilizzando il portale foreste.provincia.salerno.it, accedendo al quale è possibile consultare le modalità di compilazione e presentazione, nonché le informazioni sullo stato di lavorazione delle singole procedure. L'attivazione di tale servizio sarà utile agli utenti, poiché quello relativo al taglio boschivo era l'unico servizio che ancora non si avvaleva della procedura online, che fornirà sicuramente all'utenza un miglior servizio in termini di facilità di accesso a informazioni chiare ed esaustive, ma sarà utile al contempo anche alla pubblica amministrazione, la quale, recependo dati omogeni e più facilmente gestibili, riuscirà a mettere in atto maggiori e proficui controlli nel basso territorio della provincia di Salerno.